Se anche tu possedi un iPhone di ultimissima generazione ne sono certo e lo vuoi sfruttare al massimo beh oggi ti insegno un trucchetto davvero fantastico per andare a pubblicare le tue storie Instagram in modo pazzesco e sono certo che i tuoi amici schiatteranno da l'invidia, andiamo a scoprirlo insieme quindi per andare a pubblicare delle foto fantastiche vai sul tuo Instagram in questo modo fai più dopodiché vai in storia qui in basso nel rullino frotto invece di fare recenti fai live foto vai qui dentro, scegli una fotografia a caso, io ti faccio vedere ad esempio questa questa è una classica fotografia ma guarda se ci clicchi sopra cosa succede? diventa un boomerang perché è una live foto quindi potrai premere qui sopra decidere anche dove tagliarla e farla diventare una fotografia live è davvero fantastico, prova ad utilizzarlo e fammi sapere se ti è piaciuto questo trucco, ciao!